Il Porto Botanico di Palermo ha ospitato la 25esima edizione della Zagara d'autunno, una vera e propria immersione nel mondo delle piante da giardino, tra vivaisti, mostre d'arte, proiezioni, video e foto, per svelare la bellezza e la biodiversità che ci circonda e sottolineare l'importanza di salvaguardare il patrimonio vegetale. Quest'anno l'esposizione è stata dedicata alla biodiversità e proprietà dei legumi siciliani ed ha fatto registrare un vero e proprio boom di visitatori. Quest'anno stavano rispondendo il successo negli anni passati, abbiamo cercato di incrementare il successo negli anni passati e siamo arrivati al record di tutte le edizioni che è in 75. Quindi abbiamo incrementato di un quarto rispetto a quello che è stata l'edizione dell'anno scorso, la scorsa edizione, portando anche espositori nuovi come idee, piante, tropicali. Protagoniste della Zagara d'autunno anche le scuole che hanno partecipato attivamente alla manifestazione. Tra queste l'Istituto d'Istruzione Majorana che ha preso parte con una rappresentanza degli studenti degli indirizzi agrario professionale e grafico pubblicitario. Siamo all'attacca dell'autunno, Arno Fonsanto, per svolgere l'orientamento e come è presentato l'interno di un'attiva di assistito. Oggi siamo qua per fare attività di PCTO e per assistenza agli espositori. I ragazzi sono impegnati nelle attività di PCTO a supporto delle aziende divaistiche, ma abbiamo allestito anche un gazebo dove i ragazzi possono svolgere attività di orientamento e presentare l'offerta formativa dell'Istituto.